Ciao ragazzi, ciao ragazze, allora questa volta sto testando i microfoni come vedete, ok l'ho messo un po' male ma devo vedere se funzionano, per cui spero che mi sentite perché ho preso questi microfoni per l'audio e vediamo se mi sentite. Li ho messi qui, non so, in teoria. Ok, vediamo se proviamo, facciamo una prova. Questo video non è per i microfoni ma come leggete dal titolo volevo raccontare la mia esperienza per l'assistenza sul sito di Carleta Shop. Nel video precedente dove parlavo dei prodotti finiti, se non mi sbaglio, dicevo che molti gioielli mi si sono rotti e non sapevo come fare. Carlita non mi rispondeva e giustamente avevo i gioielli rotti, siccome i gioielli costano e sono diciamo un po' costosi, volevo che me li aggiustava. Siccome non sapevo come contattare l'assistenza eccetera, una ragazza mi ha scritto il numero, se non mi sbaglio, sotto il video, dove mi diceva di contattare questo numero e vedere cosa mi dicevano. Infatti io ho parlato, ho chiamato l'assistenza del Carleta Shop, per chi non sa che sito è Carleta Shop, ovviamente vi metto qua la foto, dove io praticamente acquisto quasi sempre, se non sbaglio, 3-4 volte all'anno più o meno, non esagero ma più o meno mi faccio scorta e acquisto da questo sito di Carlita Dolce. E dove ho spiegato che avevo problemi sui gioielli che mi si sono rotti, per cui avevo già parlato di questo video. Detto questo, praticamente voglio dire la mia esperienza come mi sono trovata per l'assistenza di Carleta Shop. Per cui ringrazio la ragazza di avermi detto di contattarli, per cui grazie, non so il tuo nome, non me lo ricordo, poi vedo che non so neanche se mi segue, comunque ho contattato proprio il gioielli, quello praticamente che fa i gioielli di Carlita. Allora, questo praticamente è di, se non sbaglio, allora ho contattato ovviamente questa signore che fa i gioielli a Carlita Shop che si trova in Toscana. Dalla Toscana a Como è distante, per cui ci voleva un po'. E devo dire che è stato molto gentile questa persona qui, non voglio far nomi, non voglio far niente perché non voglio andare nei casini. Quindi, voglio solo dire, questa persona mi ha contattato tramite Whatsapp, prima mi ha chiamato e poi ci siamo sentiti tramite Whatsapp, dove lui mi diceva cosa dovevo fare per far sì che lui mi aggiustava i gioielli, siccome li fa lui. Praticamente il primo giorno mi ha detto di spedigli, no, allora il primo giorno mi ha detto di dire quali gioielli mi si sono rotti. E ovviamente, se non sbaglio, era la collana col cuore, che adesso vi farò vedere, e la collana con le 5 stelle. Adesso non mi ricordo bene i nomi. E poi non mi ricordo se gli ho detto anche il bracciale, non me lo ricordo comunque, adesso vi faccio vedere i gioielli. E cosa mi ha detto? Diggli i gioielli in cui, cioè, mandagli la foto del sito, prendere le foto del sito dei gioielli che mi sono rotti e mandagli su Whatsapp. Io ho fatto questo. Dopodiché, mi ha detto di aspettare praticamente una settimana, perché è ora che lui mi doveva spedire i gioielli, cioè ricambiargli i gioielli. Per cui ho dovuto aspettare una settimana, praticamente, che lui mi mandava i gioielli nuovi. Allora, cosa ho fatto? Cioè, una settimana per fare tutto, in pratica. Non mi sto spiegando bene. Allora, il secondo giorno mi è arrivato il pacco che mi ha spedito lui, che è praticamente in questa busta, dietro c'è l'indirizzo, non ve lo posso far vedere. Sia il mio che il suo, giustamente. In questa busta mi sono arrivati i gioielli nuovi, che praticamente mi si sono rotti. Ci ha messo un giorno ad arrivare. In più, mi ha messo anche dentro i soldi per rispedire i gioielli miei, quelli rotti. Allora, io ho fatto una clip dove mi si sono rotti i gioielli, per cui ve li metto qui, vi metto le clip dei gioielli che mi sono rotti, così almeno capite. Calcolate che la collana, quella a 5 stelle, dopo una settimana mi si è rotta, a dicembre, dopo una settimana mi si è rotta. Non lo so adesso, diciamo che sono molto fragili, per cui si potrebbero rompere. Almeno che sono io la sfigata che si rompono i gioielli, non lo so. Comunque io ce le avevo addosso, cioè non ho fatto niente, io avevo addosso le collane e, non lo so, tramite capelli o quando mi sono spostate i capelli, così, dopo un tratto mi sono cadute le collane, perché ne avevo tutte e due addosso. Una ce l'avevo da tanto addosso, quella col cuore, e giustamente dopo un po' di mesi mi si è rotta la collana col cuore, invece quella a stelle dopo una settimana. E siccome mi dispiaceva perché erano bellissime e poi costavano, ho detto, cioè, mi giravano un po'. Allora, vabbè, in poche parole, cosa ho fatto? Io ho rispedito i gioielli miei, quelli rotti, che sono questi qua che state vedendo. Io li ho mandati. In una settimana, vi dico, in una settimana lui mi ha risolto tutti i problemi. Infatti mi ha mandato, io li ho messi in queste bustine perché non volevo che si rompevano di nuovo. Mi fate paura che si rompono. Li ho messi in questi bustini che c'avevo, che adesso vi faccio vedere quelli nuovi. Ovviamente io da lontano ve li faccio vedere, però farò poi un delle clip dove vi farò vedere i gioielli che mi ha mandato, che sono questi qua, nuovi. Oh mamma. Ah no, sono tre. Sono tre gioielli che mi si sono rotti. La collana, il braccialetto e giustamente l'altra collana. Allora, per cui mi ha rinviato la collana che è questa qua. Adesso la faccio vedere da vicino. È bellissima. Questa è la collana che vi farò vedere da vicino qua nella clip. Questa qua è da 5 stelle, che è quella che mi si è rotta al gancio. Non so come cavolo è successo. E questa è la collana. Invece il braccialetto mi si è rotto anche quello. In verità me ne sono rotti due, però ho detto, vabbè, ne prendo una e basta. Per cui mi sono fatta aggiustare la collana, che è questa qui, dove adesso vi faccio vedere anche qua la clip. Che poi come colore, cioè io ho scelto l'oro, cioè l'avevo comprato in oro e dopo averli di nuovo nuovi e vedere il colore come si deve, cioè è una cosa spettacolare, un colore bellissimo. E questa è l'altra collana che mi è serotta, quella a cuore. Vi faccio vedere qua, sempre clip vicino, così almeno notate la differenza. Per cui, grazie a questo signore che in una settimana ha risolto il problema e ha, diciamo, si è preso quelli rotti, e a me mi ha dato quelli nuovi, per cui grazie. Spero che non succeda ancora, perché questa volta cercherò di stare attenta. Calcolate che io questi qua li metto sempre addosso e non li tirerò via, mai, perché sono bellissimi, poi hanno una qualità ottima. L'unica pecca è che talmente sono sottili, cioè come vedete sono sottilissimi, e siccome sono sottili si rompono, per cui non lo so. O succede a me che si attaccano i capelli o nelle magliette quando, non so, fai qualcosa, e allora può succedere. Oppure, non lo so, fatemi sapere se anche voi, ovviamente parlo di quelli che hanno già acquistato da Carlita Shop, i gioielli, se anche voi è successo la stessa cosa, che vi si è rotta un gioiello o vi siete trovati bene. Allora, io mi sono trovata bene, perché, cioè, l'unica cosa che ripeto nell'altro video, sono stata un po' delusa sul fatto che dopo una settimana che l'ho comprata mi si è rotta. O erano difettati, oppure non lo so. Comunque, questi qua sono bellissimi. E ho comprato altre cose su questo sito, che ha fatto nuove cose sul sito, sempre gioielli, che lo scoprirete nel prossimo video di Carlita Shop, questo va prima dello shopping che ho fatto di Carlita Shop. E niente, praticamente questa è stata la mia esperienza. Sul fatto dei gioielli, che me li ha ricambiati, sono stata molto felice perché ci tenevo tanto, erano molto belli. Poi, quando li metti addosso, sono da Dio, ve lo giuro. Poi, quando fate la doccia, o quando vi lavate, state tranquilli che il colore resta, non va via. Non come i cinesi, oppure come Bottega Verde. Bottega Verde, ad esempio, quando prendete un prodotto, vi regalano dei braccialetti, no? Tipo argento. Ma quei braccialetti lì, praticamente, sono bigiotteria. E hanno differenza di questi. Per cui, vabbè, a parte che c'è la garanzia. Però vi assicuro che questi sono migliori a confronto dei cinesi, oppure delle altre marche. Per farvi capire meglio, preferisco questi gioielli a confronto di stroili oro. Credo che conoscete la marca di stroili oro, che avevo fatto anche quella una recensione, dove mi sono trovata malissimo. Perché tutte le cose che costavano sui 50, 60, 70, anche 80 euro, mi si sono rotti tutti. E non potevi neanche aggiustarli, perché loro dicevano, tu li rompi, tu li compri. Cioè, li paghi, se no, sono cavoli tuoi. Mi hanno risposto così. Per cui, state tranquilli, che vi assicuro che questi qui sono al 100% migliori di quegli altri che fanno cagare, in poche parole. Per cui, questa è stata la mia esperienza di una settimana per cambiare i gioielli nuovi a quelli rotti. Io ringrazio, vabbè, non lo vedrà di sicuro questo video, questa persona che mi ha aiutato. Però io ringrazio questa persona, che è stata molto gentile con me. E niente, fatemi sapere anche voi se avete vissuto questa esperienza di questi gioielli, se vi si sono rotti anche voi, se acquistate da Cardita Shop e come vi siete trovati. Non lo so, fatemi sapere sotto in questo video. Vi ricordo che ci sarà un altro video dello shopping di Carlita Shop, vi anticipo questo. Non so quando, ovviamente, perché questo video andrà a settembre e io lo registro a ottobre, in poche parole. Comunque, detto questo, 15 minuti è troppo. Io vi saluto, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Seguite, seguitemi su Instagram, se non l'avete ancora fatto, li metterò molto prima le foto e vi aggiornerò molto prima che su YouTube. Un commentino qua sotto, credo che ho detto tutto. Detto questo, non dovrei dire niente. Cioè, non avrò niente. Credo che ho detto tutto, per cui parlo a mamberà dopo di questo. Noi ci vediamo al prossimo video, grazie di essere arrivati fino a qua, perché io parlo troppo. Detto questo, spero che il microfono si è sentito. Adesso controllo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!